il primo della giornata un po' screpolatino dal caldo vedete purtroppo ho gamolato infatti ho lasciato il gambo lì perché è già tutto gamolato però sono lungo il sentiero che sto salendo ai miei posti va bene continuiamo fratellini guardate che belli che sono foto dopo una bella sfacchinata guardate giù ripido ripido però la faccio sempre sto pezzo perché è una fungaia infatti sotto niente arrivo qui alla fungaia ce n'è uno qua uno qua un po' screpolatini per il caldo perché qua sono in pieno sole però ecco qua uno vedete che bello bianco tutto che chiudo ecco è ripido diamo il buco e l'altro qua anche questo bello bianco io tanto qua trovavo anche i pinicola ma al momento non ne vedo adesso provo a girare un po' per qui comunque due fratelli ci sono ok diamo il buco li pulisco e continuo a dopo sto iniziando ad andarmene perché sta iniziando a piovere da temporale oggi domani guardate qua che bei gallinacci non potevo non filmarli guardate qua guardate qua belli che sono ma questo è piccolino lo lasciamo ok mi sto ritirando se trovo qualcosa per strada filmo ancora nel caso al prossimo video ciao nel sentiero di ritorno per la strada guardate sentiero eccolo qua velo maturo un po' screpolatino dal caldo però bello va bene vado che inizia a piovere no